Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Un saluto a Gigi, oggi siamo qui, ritornati ancora una volta su Fortnite Battle Royale Per cercare di fare una bella partita Ora, gli ultimi e tutti i posti nuovi credo di averli visti un po' tutti Credo, forse mi manca giusto quelli un po' più disparati nella mappa Ma bene o male quelli più importanti li ho visti un po' come sono fatti E mi piacciono tutti Indistintamente mi piacciono tutti Anche le spiagge snob sono particolari con quelle mura Che comunque per andare da una parte all'altra sei costretto a costruire O sennò ti devi fare tutto il giro E non è mai bello Ho visto che c'è una cassa al fiume Però dato che sono il primo io me ne vado alla casa Brigate lui, brigate lui di prendere tu l'arma Ok, vabbè Allora, dopo questa fantastica uccisione Devo trovarmi delle altre armi Però, oh, 100 di scudo non è male Quindi gestiamoci bene Spero che eravamo solo noi due Perché se adesso sotto mi trovo qualcuno che ha il fucile a pompa Ok, non è più un problema perché ce l'abbiamo anche noi Quindi possiamo giocarcela Buono così Ok Ok E ok Allora Vedo gente tipo Ovunque Chi mi ha sparato da di qua? O non mi ha sparato nessuno? Perché mi dava che mi avevano sparato da destra? Raga, mi davano che mi avevano sparato da destra Non... non quello Vabbè Che, qualcuno lì nella foresta? No Allora, facciamoci queste due case Eh... le granate Ma sì, dai Facciamo così E ci prendiamo anche le granate Perché così almeno Possono... cioè, possono tornarci utili Allora Ah, altro scudo che comunque mi tengo al posto dei mini scudi Allora... Sento sparare ma ripeto Ho visto un sacco di gente Ma proprio tanta Qui non sento il tesoro Non mi metto a spaccare Perché non voglio fare troppo rumore Eh, non lo vedo C'ha la skin C'ha una skin scura No, dove cacchio mi ha fatto costruire? Non so se si stava sparando un qualcun altro Ma credo fortemente di sì No, ho preso l'albero No, raga, ho preso l'albero Ho preso l'albero Ok, raga E... Ha iniziato a sparare Ha iniziato a sparare lui E va bene Però poi io diciamo E mi ero riuscito a creare la situazione Di stare io sopra e lui sotto Che detto così Potreste pensare male Ma... No, non pensate male E... E niente Però non sono riuscito a prenderlo in testa Io più che prenderlo sul corpo Puntavo solo alla testa Infatti l'ho lisciato sempre Eh... Io da quando non c'è più l'albero Mi sento perso Da quando non c'è più l'albero Mi sento perso, ragazzi Comunque No, un'arma Dai, un'arma Mamma mia Pensate se non la vedevo E arrivava qualcuno da dietro La prendeva e mi uccideva Faccia ridere Ok, pure la pistola Non è male Avrei preferito un fucile a pompa Perché lo sapete Che io non è che mi ci trovi bene Con questa roba Però... Dai, avete sparato qui fuori E' indubbiamente che avete sparato Avete indubbiamente sparato qui fuori Mi hai pure visto Questo? Oh, non entrano i colpi Cioè, non sono entrati i colpi mai Quello? Ok Ok Eh, ma da prendere tutta la roba, raga Però... Mi voglio prima fare la casa Siamo in safe Quindi ho tempo Però a momenti Devo proprio sbrigare 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 tantissimo Vediamo se qualcuno Sta andando a prendere la roba No Ok, quindi forse C'è un po' di tempo Ok, la trappola Eeeh Uh, che cos'è? Lo scar Così? A caso? Random Grandissimo Buono 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 Dunque a un certo punto Quello che mi sa Il secondo Il terzo che ho ucciso No, perché l'ho preso? Il secondo Il terzo che ho ucciso Raga Secondo me non sono entrati i colpi Non entravano i colpi Ma Già Poi nell'episodio precedente Un paio di volte Sentivo Camminare No Già nell'episodio precedente Ve l'ho detta Una cosa del genere Boh, mi dà questa sensazione Ma ripeto Può essere anch'io Che sto allisciando Non sono fortissimo Però Boh Ho questa sensazione Quando sparo E prima non ce l'avevo Cioè Non è che Lo sapete Io non è che Ho mai detto No raga Non entrano i colpi Cioè Qui su Fortnite Di solito Non piango Di solito Ogni tanto Ogni tanto Mi lamento e piango Però di solito Non piango Perché non entrano i colpi Invece Come vedete Solo negli ultimi episodi Lo sto dicendo Perché ho questa sensazione Comunque Oddio Qua c'è anche un tesoro Tra l'altro Propriamente Bene Questo Allora Qualcun altro C'è per forza Perché Perché sì Perché qualcun altro Ci deve essere Per forza Però Non so dove È quello Il problema Però secondo me Qualcun altro C'è Ora Qui Non si sono fatti Però perché Non c'è manco Il tesoro E questo Ci piace Ok Siamo già in 48 Tra l'altro Vabbè Ormai Ormai durano pochissimo Ma io comunque Credo che Adesso che la gente Si abituerà Anche alle nuove città E quindi non tutti Scenderanno Sempre Comunque Nelle nuove città Io credo Che le partite Adesso si allunghino Un attimo Perché ci saranno Più punti di spawn E la gente Si divide un po' Di più Di quanto Non si divideva Fino adesso Quindi penso Che le partite Dureranno anche Un po' Di più Forse hanno fatto Questo aggiornamento Con tutte queste città Insieme Apposta Molti hanno detto Eh Gigi Secondo me Dovevano aggiungere Una città alla volta Ma vi immaginate Se aggiungono Una città alla volta Che casino In quella città Le prime partite Cioè I primi due giorni Penso Devono chiudere i server Perché Andranno tutti lì Cioè Secondo me Non può In questo gioco Non possono fare un aggiornamento Dove aggiungono Una sola città Perché tutti vanno là E se lo faranno In futuro Perché comunque È detto Che magari Possano fare Una cosa del genere Secondo me Sbagliano Ripeto Sì ci stava Ma qui Cioè si sono alluttati Ma non si sono presi Il tesoro O è qualcuno Stava scappando Perché ripeto Raga Ci sta È vero Potevano aggiungere Una alla volta Perché tutte insieme Così È un po' difficile Da riprenderci La mano E tutto quello che volete Sono d'accordo Però vi immaginate Una città alla volta Cioè Una città alla volta Creeresti il panico In quella singola città Quindi io preferisco Che abbiano fatto così E Io tutto sto ragionamento L'ho fatto Perché vi stavo dicendo Una cosa Che però purtroppo Adesso mi è passata Di mente Vabbè Mi è passata Non so cosa vi stavo dicendo Però vabbè Sono contento Che vi ho detto Questo concetto Perché ho paura Di scordarmelo Che ve lo volevo dire In questo video Comunque Cioè io credo Che ci sia qualcun altro Suppongo Ci sia qualcun altro Ma non vedo nessuno Questo È il problema Fondamentalmente Ah sì raga Vi stavo dicendo Che le partite Durano di più Ed è Secondo me sì Dureranno di più Forse l'avranno fatto Anche per questo Questo aggiornamento Con tutte città nuove Comunque speriamo bene Speriamo che Mantengano bello attivo Il gioco Perché Ve lo dico sempre A me fa impazzire Questo gioco Speriamo non sbaglino Un aggiornamento Fino adesso Non l'hanno mai sbagliato Anche perché Sono stati tutti I piccoli aggiornamenti Che vanno fatti Quando i giochi escono da poco Cioè hanno aggiunto cose C'è tanta roba Da aggiungere ancora Su sto gioco E per adesso Dunque C'era da aggiungere Lo stanno aggiungendo Uh Ma serio? Io ve l'ho detto E c'era qualcun altro No Ah no Non mi ha preso Pensavo mi avesse preso Pensavo seriamente Mi avesse preso Allora Le bende sicuramente Le devo E Eh Eh Mo' devo scegliere Tra il cecchino E il fucile a pompa Il problema è che C'ho pochi colpi E lanciarazzi Eh no Allora rimango così Lanciarazzi Mi serve troppo Mi serve troppissimo Però Però Devo gestirlo bene Perché con solo due colpi Presa male Ah Fammi un po' una cosa Come fanno quelli bravi Fanno tipo così Boh Ho voluto fare un po' come fanno quelli bravi Così Così sto cecchino Se se lo vogliono prendere O sto svegli che vedono cose intorno E le distruggono Oppure muoiono Ok Tra l'altro si è chiusa la safe Eh No Lascio così l'inventario Volevo spostare due cose Ma le lascio così Eh Sì vabbè Sta qui Qui vicino Però facciamo il giro largo Facciamo il giro largo Il cecchino Sarebbe stato fondamentale Prenderlo Però Nell'uno contro uno Io sono più sicuro Col fucile a pompa Lancia razzi Alla fine Serve Verso la fine serve E vabbè Lo scaracca Non lo commento Ok raga Ho fatto il giro Da di là inutilmente Però volevo essere sicuro Eh Quindi adesso Ce ne torniamo di qua E andiamo verso la safe Che comunque Sta verso di qua Sì Dovevo fare il giro Dall'altra parte Non so perché Sono andato verso sinistra Vabbè Forse ho visto Delle costruzioni laggiù E quindi volevo assicurarmi Non ci fosse nessuno Ok raga Mi sono affacciato Un po' verso di là Ho visto costruzioni ovunque Però Io proverò a salire qui Magari troviamo Qualcuno sopra Che sta pronto Col cecchino Ok Ero sapevo che c'era qualcuno C'è immaginavo No Sapevo di sicuro No Però immaginavo E no vabbè Qua si prende questo Ripeto Il cecchino Vabbè Rimango sulla mia strada Raga No No vabbè Oddio 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 Non ci voglio credere e sono morto così, non ci voglio credere non ci voglio credere e sono morto così, non ci voglio proprio credere e sono morto così ma è un gioco horror o è fortuna no perché non l'ho capita sta cosa cioè no raga non lo so perché mi hai preso un colpo comunque ve l'ho detto anche nel video dell'altro giorno, questo è il mio limite mentre registro che non sto completamente concentrato al gioco oppure nei momenti in cui non parlo inconsciamente non sono concentrato completamente al gioco e quindi quando ne vedo uno, entro nel panico e questo non l'avevo visto quindi immagino, no regà, no regà che poi tra l'altro ero tranquillo perché so salito ho visto questo, l'ho ucciso sto tranquillo, cioè quanta gente ci può essere là sopra, cioè c'è una casa c'è, no niente c'era pure questo tipo, no vabbè regà comunque veramente, cioè io giusto così giusto così, vabbè no, quello di prima l'ho lisciato la morte della partita prima, vabbè regà da oggi abbiamo capito che Fortnite è un gioco horror e non è un gioco tranquillo dove di sparare e costruire per quanto mi riguarda mentre registro spero che comunque il video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale se non c'è stato per me è tutto e noi ci ritroviamo, penso, dopo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao raga ciao Grazie a tutti.